Immaginato in questi termini dalla studentessa di Amicis da Aurora Conselmo, oggi non c'è perché aveva altri impegni la nostra scuola di Amicis è il terzo anno consecutivo che propone un pannello di apertura della settimana della mobilità e anche quest'anno abbiamo proposto questo bellissimo disegno è una strada che volge verso l'infinito verde e sole quindi che sia una bellissima settimana e che dalla nuova via in via San Gregorio c'è una grande mano ma non solo in questa occasione ma in tante altre occasioni è l'occasione per ringraziare tutte le scuole non c'è la collega Cerana che però c'era in conferenza stampa quindi insieme abbiamo ringraziato questo mondo veramente presente che dà veramente musica italiana e non soltanto perché non ce lo possiamo permettere ma soprattutto perché c'è dietro una scelta ben precisa quella di favorire le band della zona, del territorio volevamo farvi ascoltare tutti quei ragazzi che sul territorio quotidianamente si impegnano in questo lato, i giovani che hanno lavorato fino a nottefonde ieri e poi ringrazio Monica della Terza, la coreografa che ci ha dato una grossissima mano nell'ideazione, nella realizzazione della seconda novità di quest'anno un angolo foto come ricordo per la terza edizione della settimana della mobilità Grazie a tutti